Riguarda poi la violenza sulle donne, gli stupri, è un'estate incredibile, pazzesca, con episodi raccapriccianti, la Lega ha presentato sia un disegno di legge che presentare un emendamento per la castrazione chimica per i casi più gravi di recidivo, l'ho letto di quel, non lo chiamo papà, di quello schifoso che ha abusato prima nella finanziarina a quattro d'ordicenne del figlio e poi dalla figlia di 11 anni, certa gente oltre che di elinquente è malata, i malati vanno curati, se hai mal di testa prendi l'aspirina, se non riesci a controllarti te lo risparmio per il resto della tua esistenza.